Non solo per la Regione, perché ovviamente l'ho detto oggi e Chiamparino si è offeso, però è chiaro che se vince la Lega e Regione Piemonte, per quello che mi riguarda, ci metterò tutto l'impegno possibile perché il Piemonte venga collegato al resto d'Europa e il treno passi dove deve passare. E il treno passi dove deve passare perché a colpi di no, a colpi di no, ti voglio bene sorella mia, ti voglio bene sorella mia, un bacione e pane e nutella, un bacione e pane e nutella a quelli che vedono fascisti dove non ci sono fascisti e i razzisti dove non ci sono nazisti e i nazisti avete rotto le scatole, mamma mia, nel 2019 con la falce e col martello, ma come si può essere tristi con la falce e il martello nel 2019?